Sono circa 3.600 i donatori attivi, coloro i quali effettuano donazioni di sangue periodicamente, cioè almeno una volta ogni due anni, i quali si aggiungono ai numerosi cittadini che si avvicinano alla realtà della donazione per la prima volta o comunque con minor frequenza. Questo permette alla FIDAS Nissena di consegnare all'ospedale Santeria di Caltanissetta più di 5.000 unità di sangue all'anno. Eppure, anche se manca poco, non è stata raggiunta la soglia dell'autosufficienza e coprire così il fabbisogno del territorio. Per questa ragione la FIDAS continua a cercare nuovi donatori dai 18 ai 65 anni, rivolgendosi soprattutto ai ragazzi e le ragazze. Non ci fermiamo mai nell'attività di propaganda e sensibilizzazione della donazione del sangue, in particolar modo con i giovani delle scuole superiori, dove cerchiamo di raggiungere quel ricambio generazionale che è l'obiettivo principale dell'associazione per far sì di sostituire i donatori che non possono più donare per limiti d'età, vengono sostituiti dai giovani. E devo dire che tanti giovani di tutte le scuole superiori della città, ma anche dei comuni limitrofe alla città, vengono spontaneamente a iscriversi presso la nostra sede qui in Piave della Regione 68, che ricordo è aperta tutti i giorni, compresa la domenica, dalle 8 alle 11.30. La novità per la nostra associazione, da qualche mese, grazie alla disponibilità del direttore del CIMIT, azienda ospedaliera Sant'Elia di Caltanissette, dottore Marletta, ci ha messo a disposizione un separatore cellulare che ci dà la possibilità di far donare quanti vogliono farlo, diciamo, il plasma, che è un elemento molto importante nella lavorazione delle case farmaceutiche per produrre gli emoderivati, i farmaci salvavita, ed è molto utile anche per i donatori che hanno un parametro di ferro basso, possono, nonostante ciò, contribuire alla donazione di solo plasma. La necessità di sangue è, diciamo, sicuramente per quei reparti, in particolar modo il reparto talassemia, che assiste oltre 100 ragazzi, noi chiamiamo ragazzi, ma sono soggetti affetti dalla talassemia, che necessitano di una trasfusione di sangue ogni 15-20 giorni, e quindi in base all'età, la quantità, e voi capite bene che oltre 3.000-3.500 unità di sangue all'anno vengono garantite solo per questo reparto. A questo si aggiungono ovviamente tutte le necessità dell'ospedale, dei vari reparti di oncologia, di chirurgia, chirurgia d'urgenza, eccetera, eccetera.